Ben trovati da Tg della mobilità. Domani dalle 16.30 alla ventino celebrazione delle ceneri nella Basilica di Sant'Anselmo. Sul versante della mobilità già da primo pomeriggio scatteranno i divieti di sosta nella zona e prevista la chiusura al traffico di via di Santa Sabina e di via di Sant'Alessio. Domenica dalle prime ore del mattino fino alle 15.30 in programma alla mezza maratona Roma-Ossia. La partenza è prevista all'euro, altezza palalottomatica all'arrivo alla rotonda, chiusura al traffico e deviazioni o limitazioni per i bus di 27 linee.